Aldo, Aldo, il giorno 17 giugno, in questo momento, circa ore 16, sono alla stazione di Colico. Ecco qui, ecco il nome indicativo di fronte a me, Colico. Qui avviene lo scambio del treno per andare a Chiavenna, al binario 1 Tronco. E leggo anche le fermate per andare a Chiavenna. Dunque, eccole qui indicate, Dubino, Verceia, Novate Mezzola, Samoraco, San Cassiano e Prato Camportaccio. Da Colico-Chiavenna ci vuole circa mezz'ora. Oggi è una bella giornata. Comunque, alla domenica c'è un treno diretto che da Milano-Porta Garibaldi va a Chiavenna. Però non è proprio diretto, diretto. Fa un sacco di fermate. E poi, alla domenica, c'è troppa, troppa gente sul treno. È meno, dico, meno soddisfacente viaggiare in quel giorno lì. Preferisco viaggiare chi ha possibilità nei giorni feriali. Alla festa quel treno si può anche viaggiare in piedi, ma è una cosa nauseante. Quindi noto la particolarità di scendere a Colico tutti i giorni e di prendere il treno che per mezz'ora vado a Chiavenna. Così visito tutti i paesi adiacenti al lago di Novate Mezzola, come bel paese di Verceia. E la fermata successiva, Novate Mezzola, poi Sammo Lago, dove in questi giorni c'è stato proprio l'alluvione dei fiumi. E adesso è passato e si riprende nettamente bene la circolazione. Vi saluto dalla stazione di Colico. Ora vado io da solo all'abbazia di Piona.